Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nel mese di giugno scorso, la drammatica scomparsa di Alessandra Ollari ha sconvolto Parma. La donna, originaria di Calestano, è stata ritrovata in via Sidoli, a pochi passi dalla sua abitazione condivisa con il compagno Ermete Piroli. La notizia, divulgata da Rai3, è stata seguita in modo approfondito da chi ha seguito il caso. Alessandra, 53 anni, è stata identificata attraverso i vestiti e alcuni effetti personali. La procura di Parma ha aperto un'indagine per omicidio da parte di ignoti, mantenendo ancora aperti molti interrogativi sulla sua scomparsa. La notizia della sua morte è stata comunicata ai familiari, tra cui le cugine assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile e il compagno assistito dall'avvocato Pierluigi Collura. L'autopsia, ordinata dalla procura, è programmata per il 27 febbraio, con l'aggiunta di un attack nel pomeriggio. L'esame medico legale verrà eseguito il giorno successivo. Il cadavere di Alessandra è stato rinvenuto in un prato vicino a una strada, sotto il muro esterno di un edificio. Il corpo era nascosto tra la densa vegetazione e è rimasto non notato fino al 2 febbraio, quando un uomo passeggiando con il cane l'ha avvistato. Sul luogo sono intervenuti prontamente la polizia scientifica e i carabinieri, impegnati nell'indagine per determinare le circostanze del decesso e, soprattutto, per attribuire un nome alla vittima. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi mentre si cerca di far luce su questo tragico evento che ha scosso la tranquilla città di Parma.